ci sono e ci saranno sempre, devono essere studiate, immediatamente studiate ciao amore! dove vai col giochino? dove vai col giochino? buongiorno signorina oh vedete che giorno dopo giorno abbiamo modo di confrontarci io rispondo alle vostre domande curiosità piano piano vi raccontiamo tutto detto questo io oggi sto abbastanza bene ieri sera fortunatamente sono stata bene quindi dai incrociamo le dita sto un attimino meglio detto questo volevo fare due piccole premesse la prima ovviamente quando diciamo e scherziamo sul segno sul sesso ovviamente è giusto per parlare per scherzare credo sia sottointeso che la prima cosa importante che sia in salute che sia sano che non che nasca senza alcun tipo di problemi eccetera eccetera ma questo credo sia scontato è il nostro primo pensiero però dai si scherza sul segno sul sesso giusto per giusto per fare due chiacchiere altra cosa nel copy della foto che ho pubblicato ho scritto tipo magari vi immaginate avere in casa due vergine precisine e pignole ma quel precisine e pignole non era riferito al fatto che il bimbo la bimba sia femmina era riferito al vergine quindi tanti di voi mi hanno scritto allora ci hai fatto lo spoiler una femmina no ragazze io ve lo giuro io non so ancora se femmina o maschio dunque mi ha fatto molto ridere il commento di una ragazza che sotto la foto mi ha scritto che sicuro il serpella spera sia una vergine e una femmina in realtà ancora peggio cioè il serpella spera sia un maschio e spera sia pure della vergine cioè lui vorrebbe un bambino a sua immagine e somiglianza cioè a posto siamo a posto come vi dicevo ho la scadenza proprio il 30 settembre e dovrebbe essere una bilancia ovvio che se dovesse anticipare di qualche settimana nascerà una vergine e pazienza sicuro nascerà già con tipo lo swiffer in mano e lo straccetto o il centimetro per andare a prendere le misure di ogni cosa tipo il serpella no si scherza comunque io vi dico già che tifo per una bilancia perché io sono leone ascendente bilancia e quindi ho questa piccola preferenza per le bilance e soprattutto perché il leone va molto d'accordo con le bilance e la nostra Giulia Gaudino lo saprà confermare e tantissime mie amiche sono del segno della bilancia cioè io ho proprio questa affinità con con le bilance bilancia femmina il segno bilancia femmina pazzesca e quindi ovviamente io faccio il tipo per la bilancia ma vedremo cosa come sarà in realtà come vi dicevo qualche giorno fa il test del dna fetale l'abbiamo già fatto l'ho fatto più precisamente a metà marzo ero la dodicesima settimana e ci sono arrivati ci è arrivato l'esito proprio qualche giorno prima di di annunciare poi la gravidanza a voi come già detto noi abbiamo preferito dare l'annuncio una volta una volta appunto fatto il test del dna e soprattutto una volta che avevamo la conferma dell'esito che fosse tutto tutto ok e in realtà questo esito a parte che il dottore mi ha chiamato dicendo appunto tutto a posto questo questi esiti sono arrivati alla mail del buon serpella quindi quindi il sesso scritto c'è già ma io non lo voglio ancora sapere il serpella sì però non ho ancora scoperto se l'ha già visto non l'ha visto non me lo vuole dire voglio resistere ma poi vi dico la verità adesso non ho questa curiosità assurda che lo voglio sapere ora il sesso resisterò ancora per un mesetto circa non fino alla fine perché è impossibile resistere alla fine ma voglio voglio scoprirlo fra un mesetto circa più o meno fino aprile inizio maggio adesso adesso ci organizzeremo e vedremo quando faremo quando faremo il famoso gender reveal quando scopriremo appunto il sesso vogliamo fare qualcosa qualcosa di carino io voglio che lì ci sia la sorpresa quindi scoprire se è maschio o femmina quindi resisterò fino fino appunto ancora per un mesetto e voi resisterete con me e beh non è certo in libertà signore e io dubito che lo sarà mai l'udienza è aggiornata alle 10 di lunedì mattina a po voi scavo e oma cosa c'è ma vorrei darti un pugno possiamo parlare potrei riporre io dentro le da si 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 Grazie a tutti